Abbiamo visto un Cerignola brillante, un Cerignola che ha messo K.O. il Pescara, è inutile girarci intorno. Il Pescara non ha fatto un tiro in porta, siete arrivati a meno tre in classifica, siete una rivelazione di questo campionato. Più di questo non so che dire. Sì, grazie. Intanto giro sicuramente i complimenti ai miei giocatori che hanno fatto ancora una volta una prestazione straordinaria. Al di là poi di quella che è la classifica, ma oggi avevo anche detto prima della gara, per vincere, per portare a casa i tre punti, occorreva fare una grandissima partita, una grandissima prestazione. Io credo che i miei ragazzi l'abbiano fatta, sono stati bravi a trovare il gol del vantaggio, sono stati bravi nelle circostanze in cui il Pescara ci ha messo in difficoltà, ci siamo difesi molto bene e poi nel secondo tempo ci sono state ancora due o tre situazioni dove si poteva anche trovare il doppio vantaggio. Poi nel finale il Pescara ci ha provato, nei cinque minuti finali più cinque di recupero, ma io ne parlavo con il presidente Sebastiani, era più una reazione emotiva, di rabbia, e non tecnico-tattica, quindi diciamo sotto di un gol tutti all'arrembaggio. Sì, sicuramente non sta a me stare a giudicare l'aspetto tecnico-tattico di come sia stata e di come sia avvenuta la reazione del Pescara. È un dato di fatto che negli ultimi cinque minuti, negli ultimi dieci minuti, compreso il recupero, hanno cominciato a dare questi palloni dentro all'area di rigore per creare qualche situazione che potesse portarli al pareggio, ma i miei ragazzi sono stati attenti fino all'ultimo secondo della gara. Le chiedo un'ultima cosa, pazienza, prima di lasciarla ai colleghi. Pescara si è schierato con il suo 4-2-3-1, con delle monache, Raffia e Merola dietro la punta centrale, però non ha fatto un'azione nel primo tempo. Dove siete stati bravi a limitare la qualità del Pescara? Beh, sapevamo che avrebbero messo comunque i giocatori di qualità come Merola, come Raffia, che sono bravi tra le linee, che sono bravi poi a cercare quella situazione, quell'episodio, a cercare comunque il passaggio filtrante. E noi già come sistema di gioco abbiamo già densità dentro al campo con i tre centrali più il mediano. E in quelle situazioni eravamo preparati, eravamo pronti a chiudere le linee di passaggio dove loro hanno trovato delle difficoltà sia nel primo tempo che nel secondo tempo. Grazie.